Il calcio italiano scende in campo, unito per la pace. È questo il messaggio che la FIGC ha voluto inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, decidendo di posticipare di 5 minuti il calcio d'inizio di tutte le partite ufficiali in programma nel fine settimana. Senza distinzione professionisti e dilettanti si uniranno in un'unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina. Ma sono tante le iniziative che i club, nel nostro comprensorio, stanno organizzando, come ad esempio quella del Tiene Calcio. Il presidente Claudio Menaldo ha infatti proposto ai suoi ragazzi di scendere in campo domenica con il lutto al braccio e di osservare un minuto di raccoglimento sia con la prima squadra che con tutto il settore giovanile. Insomma, domenica tutti in campo, idealmente con la stessa divisa, quella della pace, senza vinti ma solo con vincitori.